L'unica cosa è che non ho la tutina, io sono nuda Quando venite giubito io vi ho già lasciato due tutine nell'hangar Ho perso pure la pistola quindi? Sì No, Michele, sei un Michele Cazzo, come Michele sei un Michele? Che cazzo vuoi dalla mia vita? Mi hai fatto l'incidente Ah già è vero Sergio fammi salire però, fammi salire, bastarda Ciao Sì però Sergio me la devi dare a me quella lì, ciccio, sono nudo ancora io Sergio, vieni qua con la mia armatura Sergio, vieni qui con la mia armatura, bastarda Dammela, dammela Com'è composto Guarda come sono composto Questo l'ho vista nei trailer, nelle cose Qui non c'è dentro, è claustrofobico Figa, lie down Ma non è vero, dai, non è claustrofobico È puccioso, è cuccio È figo Ci dormirei Mentre invece vieni a vederti la Titan Che era quella che avevo messo su quella che ha avuto la famoso Dai ti seguo, ti seguo Sì avevo visto dei video sull'Aurora, la Titan e la Mustang Sì, anche l'Aurora e la Mustang costano 150 euro La Titan costano 80 euro Sì 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 lo so E te la pigli anche tranquillamente con i soldi di gioco Certo certo La Titan in realtà ha tre conformazioni Che è questa? La Titan base che è questa Ok L'Avenger Titan L'Avenger Stalker che è una nave che ferma le altre in Quantum E l'Avenger Batte la Pesca, non me la ricordo più Beh questa è quella Questa è la prima nave che vorrei Come ti dicevo La prima nave che vorrei riuscire È quella che sa anche mia figlia Eh vorrei guidare questa che è quella che dicono che è un po' più manovrabile E la nave base è migliore diciamo ecco Manovabile, ha un po' di potenza di fuoco, ha il cargo Ha un po' di cargo, c'è un po' di tutto C'è un po' di tutto, c'è il letto, c'è tutte le robe utili Insomma Ci manca giusto il bagno e per il resto c'è tutto La struttura blu è quella che ti permette di climare i mezzi Da qua puoi cambiare tutti i mezzi di terra anche Oh che bello Oddio I tuoi mezzi di terra puoi climare Cioè tu quando compri i mezzi di terra Questo display qua ti permette di trasportarlo dove sei No comunque Super Snake non hanno detto che rimuoveranno tutto quando esce il gioco Quando esce il gioco per quelle che hai shoppato, che hai comprato Hai un pozzo di assicurazione da quello che ho capito Tipo hai sei mesi, hai tre mesi, due mesi di assicurazione giusto? Sì, se la nave esplode al di fuori dell'assicurazione Tu finché non rinnovi l'assicurazione non la puoi avere se l'hai comprata Sarà tutto rinnovabile con i soldi di gioco Certo Se tu non la rinnovi con i soldi di gioco e te la esplodono L'hai persa e la devi ricomprata a zero Ah quindi è come la vita reale, lo prendi nel culo Esatto, lo prendi nel culo Figa ma che bella che è questa nave Non ci sono alcune navi Figa che bella questa nave qua, gigante Figa se è bella Sergio sta tramando qualche cagata, lo vedo lì fermo Sergio? Sergio è nel... Stava a pisciare come prima? Ci sei andato anche a cagare Dimmi? E' tornato! Ciao ne Ciao ne ne Sergio Sono arrivati in formazione, guardali Ah sì, stanno prendendo navi sempre più grandi Anche queste sono abbastanza starter ma un po' meno Questa è una terrapin Quella che si sta sorvolando adesso, grosso grosso, è una terrapin Non è che non mi fa prendere le cose, mannaggia la morte Alex Pega ha un sabre, no, Vain ha un sabre E Alex Pega ha un F7 Sono comunque navi abbastanza da combattere Dove sei Michi? Non ti vedo Mi sto guardando le navi? Sono qua a guardarle Che belle! Che belle! Queste sono più belle Allora, Jaimpo Allora Jaimpo ha la blatta Che è una nave a levitazione magnetica Ma qual è? Jaimpo Adesso tu stai guardando Ah Jaimpo che è la prima La prima, quella dove sei tu praticamente Quella lì ha levitazione magnetica Infatti la vedo sospesa da terra Infatti se Jaimpo non la spegne Non atterrerà mai neanche Perché ha levitazione magnetica Quindi ovviamente Questa è una starter Che ha un grosso cargo dietro Il retrocassonato Ci puoi caricare anche dei mezzi se vuoi Lo sto abbassando No, no, l'ho aperto io Ah, perfetto Certo Questo è il cargo Un furgonone praticamente E anche questa c'ha un aspetto all'interno Un po' Un po' lienoso Perché poi è molto claustrofobica Sali su, sali su Prova a salirci dai Questa qua resta comunque una starter Di secondo livello Con tanto cargo Volendo lì dietro Riesce a caricarsi anche il famoso mezzo Che ti dicevo prima Che è in grado di minare a terra Ok Beh, bella Super claustrofobica C'ha tre ambienti C'è tre ambienti che c'ha il suo bagnetto Certo Super claustrofobica Ponentistica Qua c'è il Living quarters E qua ci sarà il posto pilota Esatto Esatto Eh, voglio solo Giusto, giusto Sedermi sotto tutti i posti piloti Che incontro Su tutti li voglio vedere Va che bello Molto maneggevole Veramente strabella Poco armata Poco armata questa È un furgone praticamente Alla fine Cioè Vai in giro E ha un po' di capacità di carico È Open cardo È un altro level Che carica tipo il triplo Di quello che carica una Titan Certo I ragazzi mi scrivono Devo farmi il quarto monitor Quella che stai guardando adesso È Una Sabre Sì è una sabre È una delle navi Attualmente Uno dei caccini Attualmente meglio armati in gioco Bello Eh Monoposto Monoposto Quindi tu sali lì e spari Fine Tantissime armi Tantissime Tantissime armi Però fammi salire Cioè scusami Voglio vedere Sempre da un lato Sempre da un lato Sempre da un lato Sempre da un lato Bellissimo anche l'animazione Con cui si aprono Sì 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 E poi io ho detto che mi siedo in tutte Quindi Considerato Il bug che vi dicevo Cosa Io non ti vedo Cioè vedo la nave che si apre Stasera Perché c'è un fantasma Che sarà in scena Sono sfuggente io stasera Bella Questa è molto militare Molto Questa è l'F7 È sempre un caccino Sempre molto armato Stai andando in giro con la moto Sergio Ammettilo È un cannoncione Sopra gigantesco Scusa Si è perso Sergio Con tutti i pin possibili e immaginabili Con i nostri nomi Si è perso Questa è molto figa Perché vedi il motorone Che stai guardando adesso dietro Bellissimo Quando busti apre e chiude i flare Per far passare fuori più energia Quindi Lo vedi che si allarga E si restringe Vedi proprio Pilot e copilot Ah questo è proprio Pilot e copilota Vedi Si Quindi pilota e copilota Quindi questo a due posti E copilota volendo Può gestire le torrette È comunque un caccino Ma è a due posti Ho visto passare a cannone Ma proprio a super cannone Sergio Mi sa che ci ucciderà di nuovo Sergio va più piano Dove è passato Con la rotella del mouse Con cosa? C'è passato sopra la testa un secondo fa Ma con cosa? Con la rotella del mouse Sergio E? Vuoi gestire la velocità massima Dov'è? Ma cosa sta guidando? Io sono preoccupatissimo Sta guidando una Pisces Piano Più piano Più piano Basso per la cartella del mouse Minchia Figa Sergio Questa infine è una terrapin La terrapin è una nave Totalmente scanner Bella È una nave scanner Che In futuro ci saranno navi Che letteralmente Cagano mine Cioè Possono creare dei campi minati Per aria Questa è una di quelle Che avrà uno scanner Che ti permetterà Di passare attraverso Il campo minato Senza farsi una bruttissima fine Molto bella Molto molto militare Dove cazzo si sale? Da in parte? Da in parte Sì Ciao Elena Ti saluto a Michele Attenzione Il posto centrale è quello Ovviamente dello scannerista Sportstation Cos'è? Una robetta un po' particolare Leggi quello che ti ho scritto Sì sì ho visto ho visto ho visto Siete stati arrivando? No 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 Ci mettiamo un attimo di più Per preparare questa Perché è un po' complicata Però ti avviso quando arriviamo Power on Ma io Cosa sono seduto Power on? Tu sei seduto Sulla stazione di scanning Ah per scannerizzare Ok Che però non funziona ancora Un gameplay che non ho ancora inserito Ora non c'è ancora Il gameplay di questa Non c'è ancora Il gameplay di questa cosa Mi vado nel posto del pilota Esatto Attualmente però Comunque è la nave Che se tu attivi lo scanner Ti fa vedere cosa c'è A una distanza superiore Di tutte le altre Perché è uno scanner Molto più pressante Certo Per scannerizzare Poi premere tab Vedi che già Essendoti seduto Vedi che ci sono dei minerali Là in basso a sinistra Che sono dei diamantini Ah è vero Vedo dei diamantini qua Perché essendo una nave A scanner È una di quelle Che sono in grado Di trovare il materiale Tutto il resto In maniera più prestante Sergio E con quella Sergio volendo Se tu fossi un gallo Ma non lo fare Puoi atterrare dentro Nella Carrac Però se lo fai Il vecchio Carrac E la fai esplodere Non abbiamo più Il punto di respawn No infatti È grave Raffarci tutta la strada Dalla stazione Prendere il treno Eccetera No infatti Sergio Il Navitar Lascia perdere Vai giù Mi fa troppa paura Quando vedo Vedo i macchinardi Nel suo cervello Girare Guardalo Guardalo Vai giù A terra I tuoi topi Che girano Nel suo cervello Che si ingroppano Non andare sulla nave Lo so Guarda che testone Vuole andare sulla nave Lui Non andare sulla nave Sergio Vai per terra Ci entri Solo se ti giri In maniera giusta Non sai la procedura Sembra in te Stellar Non approcciare il mezzo Non conosce la procedura Di sicurezza Ripeto Non approcciare il mezzo Venga adesso Venga adesso L'ha brato Sì esatto Tiralo giù Vala Non si può Siamo in una zona In cui non si può sparare L'avrei già fatto Cazzo Non farci Non farci A terra sul prato No che cazzo Stai facendo Perché 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 Io lo so qua Che sudo freddo Figa Sergio no La nave è la sua Eh beh sì Ti ricordi che l'aveva chiamata Ah è vero È tua Ma poi questa qua Piccola è mia Eh sì sì La Piscis Dove l'ha presa La Piscis Ma è quello che stavo ridendo Prima Ah posso chiedere Ah e rideva Perché stava chiamando le navi Eh posso chiamare Un'altra carica Ad esempio qua Ah certo Io posso chiamare un'altra E quelle grosse Più navi ci sono qua Più si causa un po' di lag Quindi rischiamo Ovvio ovvio No 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 Perché mi stai spingendo via Ti spostati Ti spostati Ti spostati Ti spostati Ti metti sotto Scendi con control Sì Che pelo Che pelo Che pelo Che mi hai fatto Ma perché poi se ne va E se ne va Perché Guardalo Andare È pipolare Più chi lo mette Tra noi e lui Sì esatto Più è lontano Più sono contento Guardalo che va a cannone Guardalo che va a cannone Usa la rotella del mouse Per abbassare la velocità Massima Infatti Siamo fatta apposta Eh Sì sì Allora Sono bravissimo a pilotare Sì sì Infatti Non mi ha detto niente Occhio che qua Se voli rasente Ci sono tutti i pali della luce Infatti Li becchi I pali della luce Poi succede come Se non becchi Ti ho preso In maniera perfetta Proprio Ti ho inquadrato Con la cinematica Sembrava filmato In videogioco Io non lo so Sulle tue tanto Una gara io e te Intanto che aspettiamo È la sua che è esploso Diavolo rosso nero Si è esploso la sua stessa nave Perché lui da qua Ha la chiamata La chiamata Praticamente Da qui Provo a vedere quanto ci mettono a arrivare Dai facciamo una gara Questa secondi Quella lì che ho preso io Allora prendiamo Quindi possiamo davvero guidarle Ma sei sicuro? Perché guarda che con me esplodono E mi sento una merda poi Vai Non vi vero una Io sono su una Titan intanto Ecco Qua salire aspetta Come si fa a salire su questa? Ho già vinto io la gara Io sto vincendo Sto rubando le cose Sto rubando una nave a qualcuno Un rubo le navi È accesa È accesa Mi accendi i motori Con uno accendi Accendi però se c'è da tutto acceso La schermata Vai vai Cercate di evitare di scappiare contro la carro È a 24 km Comunque sono quasi qua Sì sì È 24 km Salgo di canale E sento cosa stanno facendo Ok Sergio dove sei? Aspetta devo accenderla Come faccio accendere questa qua? Bella domanda Vediamo Ah cazzo Ho lasciato il coso aperto Come faccio? Vado a chiuderlo Sei riuscito a accenderla? No Non sei ancora riuscito a accenderla Che cazzo faccio? Faccio accendere questa qua Sperando di No è già chiesa Ok 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 Hai visto? No non ti ho visto Ero dentro nella nave io Dove sei? Dove sei tu? Io sono in aria Chi è che stai sparando? Chi è che sta sparando? Sergio sei tu che spari? Ma sei scemo Come sei passato a un centimetro Guarda che ti tiro giù eh Ma come fai a sparare che io non posso sparare? C'ho l'armistizio Weapon system locked Ah perché sei salito abbastanza di quota Bastardo sei salito sopra la quota Sparami Guarda che ti tiro giù se ti sparo Non ti vedo E ci sombra eh? Sì è lui Perché sei tutto stealth? Sei a 4 km Dove sei? Adesso ti vengo a fare il culo Vai Sto facendo i missi Ti ho facendo i missi Aiuto L'ho fatto esplodere No Non ti ho fatto esplodere? Sei troppo veloce Sei troppo veloce Esatto Duello Duello Sergio Ma non vale a prendere il target Tu prendi il target con il tasto Scusa mi so guidare Che cazzo te ho lì Sparacaso Sparacaso Eeeh Se spara acaso Guarda eh Pumma Comunque mia figlia Sergio Ti volevo dire che mi faceva sapere che guida meglio di te Te? Ma sicuramente Adesso sei a tv i missili mici Sono troppo stealth Sì troppo stealth Sì proprio Che ha Come vedere due Ragazzi se mi uccidete però C'è entrato il terrorismo Correno Che perla Spara di un missile C'è un missile dietro di te? Se vi prendete il Crimestad Poi arrivano quei cacciatori d'Italia E vi fanno secchi tutti Quindi Ah Sergio è già rosso Lo vedo rosso Quindi siamo a posto Sì no no Ma per ora siete rossi a vicenda Perché vi siete sparati a vicenda Ok Però se doveste riuscire ad uccidere Abbiamo a farvi danni grossi Ok ok Rischiate di prendere il Crimestad Anzi Niente niente Allora niente Premia il secondo Voglio vedere se ce l'hai No no Crimestad Sì Eh vabbè No no non ce l'hai Non ce l'hai Perché lì ci sarebbe un valore Ah ok C'è scritto Crimestad C'è scritto Crimestad Zero Esatto Ok Però il valore di Crimestad Che è in questo momento Ma tu come fai a essere già per terra Sergio No Ci vedete No sei davanti a me Ci sono i pin che sono tutti introiati Amiche anche io ti vedo ancora sulla carra Che tra l'altro non ti vedo se Oh Sergio Ma sei cero F***a due centimetri al terreno è andato Guardalo F***a io stavo atterrando bastardo Un polato vecchio No 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 Io voglio imparare a parcheggiare Sergio Non sparare Cazzone avariato Non sparare Se ti prendi il Crimestad poi va a finire che arrivano quei cacciatori Guita lì mi sono secchi tutti e due Sì infatti Anche quello non devi fare Sergio sei un coglione T'ha appena detto di non sparare Guarda che io ho terrato eh Stavo atterrando io Ma mi sei venuto addosso con la nave Sergio Sì Sì Sei andato addosso con la nave apposta Sei un tirla di merda Io can Ma io Perché lo Perché lo Se adesso sono la città Se adesso sono la città mi incazzo Ho fatto l'afgano io Ok No adesso non ho nessuna coda Dagli la taglia Gli lo metto il Crimestad No perché poi arriva Lo so Lo so Lo so L'ha imparata questa nave comunque Sono ancora nuda Guarda che bella che è Ma se non sei donna sei uomo eh È certo che sono uomo Mi identifico come una donna Hai problemi? No no Assolutamente Eccomi Mi sei venuto addosso con una nave Sergio Cioè ti odio veramente Cioè ti odio Figa mi è venuto addosso con una cazzo di nave Stanno arrivando comunque Sergio ti è venuto addosso In che senso? Allora noi siamo pronti Adesso passiamo sopra Con tre navi Che sono delle navi Che hanno a bordo anche un'altra nave Che si può sganciare in volo Sì comunque siamo due uomoni nudi Qua in centro È inguardabile Stascena comunque Guardate le navi Che bello Che arrivano Sì cazzo con due uomoni nudi Davanti però Ma perché Sembri cabilame Perché No scusa Mi ritiro tutto quello che ho detto Sembri cabilame Dopo dieci anni di eroina Ecco Tu che sei militare Sergio No zitto Tu che sei militare Faci la musica militare Faci la musica dei granatieri Sergio Ma queste sono le tre constellation È quella di la morte nera Oh sono caduto Eh sì perché L'aria spostata tra le navi Ci ha tirato a terra Dietro di loro Hanno agganciato dei cazzini Che stanno Si staccheranno Se non si vaga Velocissimo È la navi più veloce in gioco È passata in parte Quale? Quel caccia La posso provare? Sì certo Però è una delle poche navi Che non hanno quantum Ah non ha quantum? Eh no perché Non può viaggiare da sola È succedanea Alla constellation Ah è attaccata Ah infatti ho visto Che si è distaccata un'altra Quella di Eagle Credo sia la Taurus Che è la nave da carico E non ha dietro il caccino Eh sono tre navi Una è una cannoniera Una è una nave da carico E una è una nave da Da scortico Da La nave da Turing E la cannoniera Hanno il caccino Cos'è una nave da Turing? Ha la sindrome di Tourette? Ah beh Sottra faccio È una nave da Turing È una nave Per portare posseggeri di lusso E quindi ha dentro Delle finiture di lusso Bello Popolo Sono arrivate tre navi E venite qua Vi tiro per terra Un under suite Almeno è un vestito Sì esatto Queste navi sotto Hanno dei motori Che sono in grado Di farle rimanere In hovering mode E volendo si aprono E si chiudono Queste sono quelle cose Di rotonde Che vedete di dietro Incomincerà il desync Questa è un po' gigantesca Incomincerà un po' di desync Eh beh Ci credono Ste navi giganti Cazzo Allora Vi tiro per terra Un under suite Che ho trovato Dentro in un avamposto Con volendo un tasco Vai Dammelo a me Mettila sotto Mettila sotto Metti La presa Sergio Sto scappando Sergio sei un idiota Che deficiente Dammi la mia armatura Dammi la mia armatura Figlio di Troia Dammi la mia armatura Figa che belle queste però Guarda che belle Guarda Questa è la constellation Aquila Ok È una nave esplorativa Ah ok Go up Per terra Per terra Secondo me è una delle più evocative Questa nave qua Sì Sì è quella che in assoluto è più Nave spaziale Prima Sì Sì Questa è molto nave spaziale Sì Da quel senso di nave spaziale Sì È una torretta Allora C'è una torretta di sotto E una torretta di sopra Nell'Aquila Sono centrato nella torretta Non sono due torrette Da combattimento Solo una è da combattimento L'altra invece È una torretta da Da scanning Perché è una nave esplorativa E quindi deve poter Prospettare Tutto quello che ci sta intorno Questa è esattamente È la torretta da 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 fire Mentre quella sopra È una torretta da scanning Bella Stupendo Un salottino No aspetta 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 Che salottino Fermo Fermo Sai cosa devo fare io Sai benissimo Che cosa devo fare Sì Ah C'è la sedia da gaming C'è qua una sedia da gaming Mi ci devo sedere sopra Madonna Madonna Se guardi come forma Ricorda molto La soddisfazione Ricorda molto la carra Guarda come la Si sono parcheggiati vicinissimi Mamma mia Che ansia Mi fa venire Eh sì È presente Sergio Prima che cercava di entrare nella carra Questa qua è gente col manico Cazzo Loro sì Loro sì che sanno guidare Altro che Sergio Qua c'è sotto Per caricare mezzi E portarli su Vedi i missili Che man mano Che si usano Finiscono All'interno di questo Racchettino E qua dietro C'è Una piccola zona Con le varie Componentistiche Della nave Questa nave Non è in goal standard Come quella di prima E quindi non è finita Non è finita E dietro c'è l'aggancio Per la Per la Per la Per la La navettina Che hai visto scendere prima Ah qua si aggancia La nave proprio Esatto Certo Si apre praticamente il pavimento E lì appare solo il cockpit della nave Certo appare solamente il posto del pilota praticamente Esatto 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 Mi chiedono qual è la nave più costosa Tra l'altro questa non è una nave costosissima immagino No no questa non è una nave costosissima Perché come ti dicevo Non è proprio l'entry level Ma è È È È abbastanza Entry level Cioè una nave da 3-4 posti Io mi butto giù da qua Mi butto giù dal cargo io Eh Ti fai male però credo No no mi butto giù con la scaletta E dico Ah che bella Un bel pirlo eh Perché? Guarda che bella Parkour Quello cos'è? Quel motore lì strano Ah questa è diversa mi stai dicendo Questa è la Taurus Quindi questa qua è più da carico Addietro anziché avere lo spazio per l'astronavina Non c'è lo spazio per l'astronavina Ah ok All'area cargo E questa invece deve essere l'Andromeda Che è quella che è una cannoniera Ah quindi ha tante armi questa Esatto Esatto Ha due torrette Ha tipo 46 missili Sì 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 È vero comunque hai ragione È quella un po' più futuristica Ma sono una torretta? Due Sopra e sotto Perché quella di prima Quella sopra è uno scanner No no sempre lì Sempre nello stesso buco Ah ce n'è una sul soffitto E una sul Ok aspetta Qua dove entrare in quella In quella sul soffitto Ah vedi Minchia Che figata Bam è così vai su E il pilota ha 46 missili da sparare Tutto attorno Sì 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 più in avanti Perché questa qua ha dei docking collar Questa ha dei docking collar che ti permettono di Taccarti a E infatti era un coso per dockarsi questo qua E ce n'è a due anche qua dietro Vieni nell'area cargo Volendo da qua partiranno dei Dei tunnel Praticamente Che si possono collegare ad altre navi Senza Senza uscire Sì sì Pax Io sono uscito dalla nave Eh non lo volevo Non volevo Eh vabbè Guardati il Merlin che è carino Ah eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Minchia che piccolo È piccolissimo Perché deve rimanere È carinissimo Salsi sopra Questo qua è veramente molto veloce Tra l'altro a questo manca già un'ala Perché Si è già speccato Allora È molto difficile sdoccare in atmosfera Ma la nave non è ancora attiva È un po' un casino C'è una scarettina sulla Ecco la Visto 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 Che bello che è questo Minchia Sergio Questo è strafigo Eh sì Allora Strefa indietro Perché sennò vai a finire dritto dritto Ovvio ovvio Ma quindi mi alzi in volo Non c'è un altro Sergio se vuoi qua Sì sì Alzati in volo Non sparate Arrivo Aspetta che arrivo Attero con la mia nave Non farmi esplodere Ok ha detto No Arretra Premi N Che tiri sul carrelli Ok E prova a vedere quanto è veloce questo Questo è veloce Questo Questo è un cannone Tana Tana Questo è veramente velocissimo E anche perché il suo scopo è Cercare di evitare i colpi Delle altre navi E fare il massimo danno possibile Eccolo qua No Mettila sulla rotella al massimo E vai a cannone Perché sei a me Puttana Aspetta eh Ti passo sopra Sergio No che Sergio Qui si solleva Non mi è andata contro Anche io Arrivo Dov'è? Ho fatto un giro Vedi il mio pin? Occhio che svieni eh Perché la forza G si esercita Ah Quindi Oh ok Se vai troppo veloce Si esercita la forza G Se giri troppo veloce E fai una Cioè come nei jet praticamente Sì sì Esattamente Ma qua da sinistra? Sì 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 Sempre da sinistra Si sarei sulle navi Go up Sì ciao Sergio ancora dentro Enter pilot seat Non devi salire sulla nave per terra La navicella Ti ho detto vieni qua dove sono io Sto per svenire Eh infatti E questa qua piccola piccola E questa qua piccola piccola Ah perché non ti vedo il Non ti vedo il Come si chiama? Il puntino A me non è anche usato i thrusters Dietro Dietro Si usa i thrusters Ma che veloce Eh certo sì E tra l'altro si apre anche dietro Perché Fanno anche l'effetto Eh sì Fica ma va velocissimo sta roba Eh sì perché Considera che se Il cannone Di una di queste navi Lo colpisce Gli basta un colpo per esploderla Certo certo Però è molto difficile da beccare Se sei un po' gallo E ti muovi Certo certo Se vai abbastanza Zium 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 Sergio ce la fai? E basta per aprire il coso? Il vetro? No devi puntare Sull'ala T'ho detto Fica Sergio non è neanche salito In tutto questo In tutto questo Ma come faccio a non svenire? Eh Devi evitare di fare grosse curve a forza G elevata Se io vado dritto Se vuoi dritto non sveni Guarda che se tu guardi In parte all'altimetro giù C'hai la forza G In parte all'altimetro Atm G safe Ah G safe Ah 0 0 G adesso Se tu fai una curva ad altissima velocità Vedi che la forza G aumenta tantissimo E tu svieni E chiedono se ci saranno creature sugli altri pianeti Cos'è esploso? Cos'è esploso? Sergio 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 cos'è esploso? Non so neanche neanche Mi sono girato un attimo a guardare la tua streaming Ho sentito Sergio che Ho sentito Ho sentito Ho sentito Ho neanche decollato Ci sono pezzi della nave C'è quel cadavere di Sergio Ma dai Ma non è neanche decollato Fia sei un disastro Sergio Veramente Vabbè io atterro lì Come a provare? Eh togge la faccio Questa è divertentissima Questa è divertentissima Bam Ho lasciato i sari assesi È un quarto Cazzo che Bella questa è bellissima Arrivo La voglio guidare La voglio guidare Eh vieni Ma c'è più l'ala vecchio Eh lo so Non lo so stato io Schiaccia i Con i Accendi i motori E poi basta E parti Puttana C'è una canna però Sergio Piano Allora adesso vi arrivano tutte le navi da lavoro Che sono quelle che servono per minare Piuttosto che per fare i carichi Lo spostamento da una nave all'altra Bello No no E infatti lo È esploso È anche esploso L'ho visto atterrare male Intanto Domanda Ma Sergio Quante navi ha fatto esplodere C'è un pezzo di nave infatti Ah ecco quel calavere di Sergio Il mio amico Se lui fosse ferito e non morto Eh diventano zombie Se tu riuscissi a portarlo Sul lettino dell'ospedale Della Carrac Eh eh Lo potresti guarire Ah certo 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 Sono morto Insieme a Sergio Siamo tutti e due morti Ma come faccio? Nelby di nuovo? Sergio Guarda la mia live Approfittare Non può urlare Non può chiedere aiuto Io lo lutto È una maglietta Te la prendo No Lasciami la mia camicia No Ti prendo le tue cose Ero un ragazzo indie È vero? Adesso sei un ragazzo nudo Adesso sei il cabilame Va che robe Stanno arrivando I nostri amici Sesso Queste sono navi da lavoro Quella che guida già un po' È un'arco Che è una sposta container Sganciare Riempire Spostare Una navi qua eh Saranno un po' da spostare Su tre teste diverse Queste sono navi Lavorati Per lavorare praticamente Per guadagnare i soldi Esatto Alex sta percorrizzando Veramente un po' Col sedere Se ho visto Che questa qua È perché è stata un po' È perché è stata un po' malino Vieni un po' avanti Bravo Se mi senti Gira i thruster Per favore Che gli facciamo vedere Come funziona Anche il VT All Vedi che gira i motori Già in poi Ci stavo seguendo Invece in live E te li sta girando Vedi che Che cosa serve Perché per andare più veloce Se vanno indietro E per andare più su Per non essere attirati Dalla gravità Quando sei sul pianeta Quindi se ci sono i motori In passi Tu puoi stare In hovering mode Cioè Certo Senza che la gravità Ti attiri Mentre se si giri Dall'altra parte Puoi usare Tutta la spinta del motore Per andare in avanti Poi è pazzesca La cosa che io vedo Già in po' Muoversi Andare in giro Cioè dentro nella nave Io lo vedo lì Cioè è bellissima Sta cosa Veramente Bell'este navi Ci sono io Perfetto apri Bellissima Cazzo Sembra il brico Cazzo Sembra il brico center Bellissima Guarda che bella Vai fai tu Andiamo su Vai 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 Mi butto per dare Sta merda Che cos'è Top deck Ho schiacciato top deck Per sbaglio Ho fatto bene Eh Volevo vedere Lower deck Prima Quello che vuoi Ma Sergio Ma Sergio Ma 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 guarda tu Un secondo su Mi sei comparso in parte Cioè tu sei lì In silenzio Che sei in parte a noi Ma che cazzo Ma Ma scusami Ma da quando eri lì Allora in top deck È solo quello Che ti permette Di gestire il carico Vai 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 avanti Per quel corridoietto lì Eh Ah lo penso C'è una corta C'è Ok c'è una porta E c'è una scaletta Ok Ti vedo vai Spostati Qua è la stanza Delle tute Guarda che bella Che è la stanza Una stanza Che fa da mensa È ignorantissima È proprio una Ignorantissima È un brico center Cazzo È bellissima È una nave da lavoro Proprio super 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 Ignorante Che bella Ha un suo airlock Quindi Da qua devi uscire Per forza con la tuta Ah ok Da qua devi uscire Per forza con la tuta E puoi depressurizzarla E uscire Fuori anche nello spazio Ti permetti di collegarti Con un'altra nave E poi uscire Ah no Sono uscito Sono un coglione Devo far riavare il giro Guardiamo Guardiamo la prossima Guardiamo la mia Ah Ok ok Altrettanto bella Volevo sedermi al posto del pilota Di qua Non mi sono seduto Questa è una nave da mining È comunque una nave lavorativa Ok Hai perito? Io? Io Allora questa ha tre teste da mining Guarda Entriamo in una qualsiasi Prendiamo questa qua di sinistra Mi pregherei di sederti Perché ti fa vedere come funziona Qua c'è uno spazio Per la tuta Perché ovviamente La testa Del mining È esterna È totalmente all'esterno In senso che se tu E qui tu devi andare fuori Esatto Se tu esci da lì davanti Non c'è neanche il vetro in realtà Potresti uscire direttamente dalla nave Infatti qua è aperto Perché devi chiudere quella nave Quella porta qua Per pressurizzare Ah Ti porta proprio giù E tu da qui Ah Sei proprio fuori A lavorare Sei fuori a lavorare Vedi quella davanti È la testa da mining Certo Aspetta Io devo accenderla anche Tu la accendi esatto Power on E tu praticamente Fai il mining così Esatto Punti la roccia Gli spari E la mini Beh Bellissima E questa nave Ha tre teste Che lavorano in tandem Casso Quindi poi tre persone Vanno lì a minare Possono minare tre rocce diverse Ma anche tre persone Possono minare la stessa roccia E quindi ovviamente Guadagni più soldi Più velocemente Immagino Sì Inoltre Ogni roccia Minare Ha un gameplay Molto 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 complesso Davvero? Sì Sembrava molto easy No Invece è abbastanza complesso Perché Tu hai minato a mano Certo Minare le rocce Quelle che ti danno più loot È molto più complesso Ci sono varie variabili C'è una durezza delle rocce C'è una resistenza delle rocce Ok Interessante Meglio Ogni componente che vai ad aggiungere alla testa Va a diminuire O la durezza O la resistenza O la La potenza Qua c'è un salottino No no C'è una porta C'è una porta Non la vedi perché È color metallo Come tutto il resto Ma c'è Fica è tutto Dov'è il posto del pilota Voglio Questo è un salottino Dove si mangia Con le camere da letto E la doccia E qua c'è i letti Guarda che bello Ti arancio Così Molto di bello Davanti c'è la terza torretta Che è quella davanti Questi qua Questa è una stanza Con due tramogge Che dovrebbero in teoria Raffinare La pietra Quando viene estratta Qua sotto c'è la torretta centrale E qua davanti C'è il posto di guida Oh Posto di guida Finalmente Enterpilot Molto ignorante Sì sì Vedi indietro Avanti Bam Così Ah puoi ciclare direttamente da qua Certo Ogni torretta È in grado Di fare il suo cicling E quindi Di fare Una scandalizzazione Singola Ma può farla Anche il pilota Tu volendo C'è tanta gente Che lo fa Anche se non è Il vero scopo Della nave Tu puoi Trovare una roccia Endere in torretta E minarla Lasciando la nave A mezz'aria E poi torna Dal posto di guida Certo Certo È molto scomodo Molto 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 scomodo Cioè Bellissimo Guarda i dettagli Della nave Cioè È fatta Nei minimi Dettagli Guarda Aiuto Sergio Si è perso Dove sei Che vengo a prendere La Prospector La Prospector Dai Vieni a vedere L'altra nave Sergio Ma su Scendere da qua Sono bloccato Ma effettivamente È un po' Buggato L'elevator Pax Cazzo L'hai appena chiamato Perché l'hai chiamato Perché Ti ho detto Che vengo a prenderti Vieni a prendermi Allora Dai Non può Scendere Scendere Nel salire Eh Sei qua Cazzo Vedi Si deve aprire Il cancelletto Un attimo Devi andare Ecco qua Sergio Vieni qua Vieni qua Vieni qua dentro Sembra i pazzi Sono andato a prendere Il pazzo Nella nave Con la lucina Bengala Nudo Sei qua Da 48 giorni Sergio Veramente Sei pazzi Psicoautici Che sono rimasti Chiusi in prigione Giorno 48esimo Siamo ancora Richiusi Nella nave